come alberto sorgeremo meglio non scherzo lo faccio e non scherzo masterizzo il pezzo due fette di carne masterizzo il pezzo mi scopo due m***e che sono m***e oggi siamo a festeggiare la laurea del mio amico Dave che ho filato a bere fate martucci ehi ok ok raga vi voglio dire una cosa la vita è come un peperoncino più ne hai più hai fortuna guardate qua raga 1 euro e 20 il clipper è andato a c***o prima era 1 euro è andato a c***o 1 euro e 20 2 euro stabilizzare 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 questa situazione la stabilizzare che stiamo facendo? che stiamo facendo? stiamo andando a prenderlo non so dove nel nulla più assoluto il mio telefono è scarico il mio senza internet lei lui senza internet non risponde e che ore sono? e che ore sono? sono le 3 e 20 e io che c***o faccio? e bene sono rimasto qua per 10 minuti vabbè andiamo vi aspetto qua se mi lasciate una sigaretta lanciatemela lanciatemi una sigaretta ci vediamo tra poco dai ci vediamo tra poco dai tagli verdi oro bianco di non spenderli sono stanco frate ancora non sesta nessun palco faccio i dischi d'ora vivo sopra un suo palco si che ci ho fatto i soldi non hai capito come funziona non c'è messo il sangue parli soltanto frate 7 dischi ti mandi una vera coppia fisica prima di andare sopra i coppe in classifica non sai per me che cosa significa no frate non sai per me che cosa significa ciao rossi mi mando ma tu hai il coraggio di tirato questa abbriscozza hai il gatto tanto c'è che ti dico ah no la gioca più di questo non si può non si può non si può non si può ma ci sono 6 gatti scusate ma vuoi aspetta no 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 ma quel amico tuo lo fa stupido al fine sono di ma lo passi con noi un forno un forno vedo la sua forma vedo la sua forma vedo la sua forma ma non è per questo un forno vedici vedo la sua forma è 6 possiamo modificare questo forno non ci vedo la stampa di 2d eeeh anche 4 tanto qua tu fai tipo uno spazio tempo di superiore anche 12 quale senti quale senti le dimensioni quanti 50 vuol dire più che lo pensi 50 50 vuol dire 50 vuol dire cosa 50 vuol dire che cosa cosa vuol dire 50 eh oh 50 forni la potenza di 50 forni in uno solo in uno solo in uno solo in uno solo arriva la potenza di 250 forni pazzesco si però si può salire solo per 31 secondi 31 secondi 31 21 ha scritto qua ma guarda uia è già un lungo primo piano in cui nessuno dice nulla è così che ci piace eccoci qua finalmente ho l'opportunità di guidare salire di guidare di salire di guidare di salire su occhio la macchina su un doblò enjoy rosso che sembra non avere problema allora non perdiamo altro tempo saliamo e vediamo com'è mi dica ci sono le chiavi all'interno oppure un'altra fregatura ci sono ci sono siamo qui sopra la vettura si 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 allora un primo sguardo il sarà un primo piano allucinante questo allora l'odore è di macchina nuova non sembra esserci tracce di corona corona o cose del genere che dire sono un po' emozionato in effetti quindi stacchiamo la ripresa e godiamoci questa questa esperienza al cento per cento mi piace assiccino quantità la l'arget una l'arget 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.